Ciao a tutti e benvenuti su Wordpress Video Tutorials. In questo video vi farò vedere come modificare la categoria di default uncategorized sul vostro blog di Wordpress e poi come effettuare il redirect alla nuova categoria in modo da evitare l'errore 301. Allora, quando create un blog la categoria di default si chiama sempre uncategorized e a volte questa categoria si lascia stare mentre ci si concentra su altri elementi del blog mentre altre volte invece viene cambiata subito. Ad ogni modo o prima o dopo bisogna essere cambiata ad un nome più indicato. E facciamo in questo modo. Andiamo su articoli, clicchiamo su categorie Andiamo su uncategorized, clicchiamo su modifica Cambiamo anche il nome della categoria in articoli Clicchiamo aggiornare Perfetto, quindi se andiamo a fare refresh possiamo vedere che la nostra categoria è stata cambiata in articoli A questo punto però dobbiamo effettuare, come ho detto, il redirect alla nuova categoria in modo da evitare l'errore 301 in quanto se si va su questo URL che praticamente è l'URL della uncategorized della categoria uncategorized che abbiamo cambiato si avrà un messaggio di errore 301 che non è un buon elemento agli occhi di Google in quanto un sito che ha una pagina di errore 301 può ricevere delle penalizzazioni appunto da parte dei motori di ricerca che è un danno soprattutto quando si cerca di indicizzare il nostro sito tra le prime posizioni quindi, per evitare questo inconveniente andiamo a scaricarci il nostro bel plugin clicchiamo su aggiungi nuovo andiamo a cercare il 301 redirect attiviamolo l'avevo già scaricato io però l'avevo disinstallato invece così l'ho attivato perfetto dopo che andiamo su impostazioni clicchiamo su 301 redirect quindi dobbiamo dirigere il nostro URL vecchio alla nuova categoria che abbiamo creato quindi clicchiamo su articoli copiamo e clicchiamo salva le modifiche a questo punto la nostra vecchia categoria verrà ridiretta automaticamente alla nuova categoria così non avremo il messaggio di errore 301 dopodiché se vogliamo possiamo andare a creare anche un'altra categoria come ad esempio blog blog lo slack potete anche lasciarlo vuoto se lo lasciate vuoto prenderà lo stesso nome appunto il nome della categoria leggiamo la nuova categoria ora facciamo sì che ogni nuovo post andrà ad inserirsi direttamente nella categoria blog invece che nella categoria articoli postazioni scrittura categoria per definiti articoli clicchiamo su blog scendiamo salviamo le modifiche se adesso andiamo a aggiungere un nuovo articolo ad esempio articolo 2 esempio articolo 2 se andiamo a salvare la bozza vediamo che la categoria di default all'interno della quale finirà ogni nuovo articolo post che scriverò sarà appunto quella blog che è la la nuova categoria che appunto abbiamo creato questo è tutto grazie per aver guardato questo video e non dimenticatevi di iscriverti al nostro canale youtube per ulteriori wordpress video tutorials oppure iscrivetevi alla nostra newsletter sul nostro sito per ricevere gli ultimi video tutorials direttamente sulla tua casella mail ciao grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti